Facciamo, non inciampiamo e non sbattiamo, e le rubiamo veramente poco, non le rubiamo più di tanto. Allora, è un momento importante, tra poco arriverà il risultato del voto sulla piattaforma Rousseau, un voto che tutti voi dei 5 Stelle avete ripetuto è fondamentale, decisivo, cioè quello che decidono i cittadini iscritti alla piattaforma per voi sarà vincolante. Sì, io penso che sia la presa d'atto di come si possa far convivere istituti di democrazia rappresentativa con istituti di democrazia diretta che vincolano gli eletti di formazione politica e che sono nate per mettere al centro il cittadino, i suoi diritti e anche le sue volontà. Lei ieri ha fatto un video facendo capire che, insomma, è per l'accordo, per la nascita di questo... Io sono per un Movimento 5 Stelle che giocando d'attacco accetti la sfida con qualunque forza politica fatta salva una per una pregiuduziale che non sto qui a ricordare, al fine di realizzare quegli obiettivi che ci sono stati chiesti dagli elettori il 4 marzo del 2018. Necessi ancora di una severa e giusta normativa sul conflitto di interessi, vuole che venga rispettato l'esito del referendum dell'11 giugno 2011 sull'acqua pubblica, insomma, attende una modernizzazione ed un'innovazione profonda dei nostri costumi che possiamo realizzare esattamente come qualcosa è stato realizzato nei precedenti 14 mesi di governo. Quindi con il Partito Democratico ci sono i termini per... Certo, anche perché il Partito Democratico, oltre alla Lega, era la forza politica che, assommati i suoi voti a quelli nostri, dava la maggioranza assoluta degli elettori italiani. Poi, per quanto riguarda gli eletti, è discorso diverso perché la legge elettorale che ci è stata imposta dal Partito Democratico, dalla Lega Nord e da Forza Italia è una legge elettorale assolutamente assurda per cui addirittura, anche avendo più del 50% dei voti, non c'è la certezza di avere il 50% degli eletti. Senta, ci sono comunque sfumature diverse tra i programmi, tant'è che ci sono stati e si seguono riunioni su riunioni tra voi. Credo che sia giusto che si affini sempre più un accordo che impedisca quelle tensioni, quelle lacerazioni, quei continui sussulti che hanno accompagnato la vita del precedente esecutivo Conte. Senta, una, non posso non farla, il suo nome è in alcune liste di possibili ministri. Di prescrizioni. Guardi, io credo che il governo debba mettere nei posti fondamentali persone generose, competenti, umili, disposti a dialogare con tutta la società civile italiana, se saprà far preso il governo partirà col piede giusto o no. Guardi, ho anche le lenti a contatto, ogni tanto alterno, quindi quando ero sportivo dovevo per necessità, insomma, usar le lenti. A me interessa che si facciano le cose che tutti ci aspettiamo, perché sono convinto che anche gli elettori della Lega o di altre forze politiche vogliano ottenere dei risultati in merito a tutti i problemi che in pratica soffriamo tutti i giorni, adesso però c'è da parlare poco e lavorare tanto. Direttore? No, è chiaro che lo diciamo noi perché lei non lo direbbe mai, però il suo nome sembra scritto molto più che amatita in ogni combinazione. Allora, per me, se posso essere chiaro, io faccio sempre questo esempio. Noi tutti ci ricordiamo della riforma che impose la scuola media obbligatoria agli inizi degli anni Sessanta con i governi di centrosinistra, ma ben pochi ricordano il ministro della pubblica istruzione che ottenne quel risultato così importante, così favorevole per tutti quanti noi. Per cui l'importante è fare le cose perché sono le idee che hanno la precedenza, poi gli uomini servono le idee, servono i valori. E c'è Lina Palverini, vorrebbe farle una domanda. Sì, a proposito di quello che stava dicendo, onorevole, cioè che è importante fare le cose, no? Insomma, a vedere un po', a leggere il programma che avete allegato al voto online sulla piattaforma Rousseau. Beh, insomma, sembrano proprio quei sogni nel cassetto di cui parlava ieri Conte, perché c'è tutto. Una manovra espansiva, il taglio dell'IVA, la riduzione delle tasse sul lavoro, il salario minimo, la lotta alla disuguaglianza, una spinta alla green economy con investimenti. Beh, non avete esagerato? Posso aggiungere? Beh, guardi, io penso che sia compiuto della situazione economica. Adesso l'identità del Ministro va bene anche senza occhiali. Da questo momento. Sì, allora, io le stavo dicendo, dottoressa Palmerini, che la politica dovrebbe anche accettare di farsi contaminare dalla dimensione dell'utopia, perché se si pone la sticella drammaticamente in basso, poi quello che si ottiene molto spesso è decisamente inferiore rispetto a quello che ci si era prefissati. Per cui, a me piace sognare in grande, a me piace sognare per esempio un Paese che investa finalmente sulla cultura, evitando qualunque tentativo di privatizzazione del nostro patrimonio culturale. A me piace pensare un Paese che metta finalmente al primo posto la lotta contro i sodalizi mafiosi, perché questo Paese, ridendo e scherzando, riesce a dar da mangiare circa 150 miliardi di euro alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Se soltanto le aggredissimo per come si può e per come si deve, noi permetteremo ai nostri figli, ai nostri nipoti di avere un futuro diverso e credo che soprattutto Beppe, oltre che il Presidente del Consiglio incaricato, Beppe Grillo, abbia capito come sia formidabile tornare a sognare. Questo è un Paese che troppe volte si è adagiato su una prosaicità della politica molto avvilente. Noi dovremmo pensare, per esempio, ad una mobilità diversa, come si sta realizzando in tante altre parti d'Europa, ad un rispetto per l'ambiente e per le specie viventi che segna un approccio diverso e non produttivistico al fine di generare profitto, profitto, profitto e magari anche malattie oncologiche, malattie cardiocircolatorie e via dicendo, con profitti che sono privati e costi che sono pubblici. Se noi dovessimo riuscire a far questo, credo che tutti quanti, a prescindere da come si sia votato e da come si possa votare, ne avremo giovamento e questo è il compito, credo, di qualunque formazione politica. Grazie, grazie, grazie a Nicola Morra. Purtroppo dobbiamo andare tra pochi secondi in pubblicità. La rivedremo al giuramento.